Musica Lunedì 20 giugno, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione. Dunque il generale Giacomo D'Apollonio è il nuovo sindaco di Ise nel risultato in nottata. Ce l'ha fatta la spuntata su Gabriele Melogli. Subito il riepilogo nel servizio di Tonino Danese. Dopo il ballottaggio il nuovo sindaco di Isernia è Giacomo D'Apollonio con 5.626 voti, 59%. Lo sfidante Gabriele Melogli ha totalizzato 3.909 voti, il 41%. Questa la composizione del Consiglio Comunale di Isernia, sindaco e Giacomo D'Apollonio. In maggioranza entrano... Pietro Di Perna, Domenico Chiacchiari, Emanuela Guglielmi, Giuseppe Lombardozzi, Gianni Fantozzi, Elisabetta Lancellotta, Enrico Caranci, Vittoria Succi, Giovanni De Marco, Tiziana Pizzi, Gianluca Di Pasquale, Irma Barbato, Cesare Pietrangelo, Antonella Matticoli, Nicola Moscato, Sonia De Toma, Tonino Antenucci, Gianpiero Mancini, Eugenio Chianischi, Francesca Bruno. In minoranza entrano Gabriele Melogli che ha annunciato che si dimetterà al suo posto, dovrebbe entrare Giovan Carmine Mancini. Poi Rita Formichelli, Cosmo Tedeschi, Mino Bottiglieri, Stefano Testa, Raimondo Fabrizio, Filomena Calenda, Andrea Galasso, Roberto Di Pasquale, Fabia Onorato, Roberto Di Baggio, Vincenzo Luozzo. Bene, adesso andiamo a vedere i quotidiani regionali e nazionali. Iniziamo con il giornale del Molise, punto it. In apertura a Isernia vince Giacomo D'Apollonio con 5.626 voti e il nuovo sindaco di Isernia ha battuto al ballottaggio Gabriele Melogli che ha raccolto 3.909 preferenze. Una sfida tutta di centrodestra, quella che si è disputata nel capoluogo Pentro. Intanto l'affluenza si ferma al 50 e 26%. Le altre notizie, Santa Croce di Magliano tromba d'aria e disagi alla viabilità. Ad Agnone, primo consiglio comunale dell'era Marco Vecchio, ufficializzata la nuova giunta. La sanità, Isernia, ostetricia, ginecologia sempre più a corto di personale. Il gruppo Neomamme lancia l'allarme. Altre notizie, a Venafro si stringe intorno ai martiri Nicandro, Marciano e Daria. C'è stata la processione conclusiva. Ancora altre notizie. Weekend sicuro, controlli dei carabinieri in provincia di Isernia scattano denunce e sequestri. Macroregione Adriatico, Ionica, festa dei dieci anni a Pola. Come ti affondo il mare? Nella sezione editoriali idee e opinioni si parla del laboratorio analisi del Cardarelli che va verso la Cattolica. Lo scrive Pasquale Di Bello nell'articolo a sua firma. Chiaramente in apertura il voto su Isernia. Siamo su primo piano. Vedete la grafica. Da Pollonio 5.628 voti pari al 59,02%. Gabriele Melogli 3.908 voti pari al 40,98%. Titolo d'apertura Isernia. Da Pollonio è il nuovo sindaco. Michele Iorio si riprende la città. Il suo candidato stacca Melogli di 18 punti percentuali e si aggiudica la partita tutta interna al centro-destra. Crolla l'affluenza al ballottaggio. Ha votato il 50,27% degli elettori. Alle urne 3.824 persone in meno rispetto al primo turno. Bene, dunque questa è la pagina dedicata al ballottaggio di Isernia. Vediamo anche le altre notizie. Ci spostiamo a Termoli, liquami in mare. I vertici della Crea indagati dalla procura di Larino per danno ambientale. Si parla del depuratore che finisce nel mirino a Benafro. Adesso polemica per l'assenza di frattura a San Nicandro. Il governatore aveva avvisato Sorbo. Ci spostiamo a Campobasso. Il professore che ha operato Berlusconi, innamorato del Molise. Terra unica da valorizzare, ha detto il professor Alfieri. Calcio a 5, colpo Isernia. Dal Napoli arriva il brasiliano Bico. Ennesimo botto di mercato per i bianco celesti. Da primo piano andiamo sul quotidiano. Anche qui chiaramente la notizia d'apertura è su Isernia. Da Pollonio, nuovo sindaco. Il generale sfiora il 60% e sconfigge Melogli. A notte fonda l'ufficialità dei dati. Ore 0.30 al ballottaggio. La fluenza crolla al 50 e 27%. Michele Iorio, ago della bilancia, al derby del centro-destra. In alto, notizie sotto la testata. Forze dell'ordine e presidi giudiziari. Il centro-destra affonda il governo Renzi. Si parla anche delle poste. A giorni alterni e privatizzazione. La CISL oggi decide la forma di protesta. Di chiami a centro pagina. Siamo a Termoli. Assunzioni in Fiat. Entrano 29 unità. Contratto di somministrazione a tempo. Dai Sernia, a spasso per la città sull'auto rubata. In due sono stati denunciati dai carabinieri. Le altre notizie a fondo pagina. Budget medio 1.181 euro. L'ADOC salva il turismo. Sette italiani su dieci vanno in vacanza. Il dato dunque emerge nell'ambito dell'indagine. Che turista sei? Uno sguardo allo sport. Un sogno chiamato rosso-blu. Stasera saranno svelati i murales. Appuntamento alle 19 all'ex Romagnoli. Il calcio a 5 col paccio Isernia. Accordo con l'ex Napoli. Bico Pelentir, il laterale brasiliano, ha giocato in Serie A. Siamo adesso sul quotidiano telematico futuro Molise. Vediamo anche qui la pagina dedicata alle elezioni di Isernia. Ballottaggio da Pollonio e il nuovo sindaco della città. 59,02% su Melogli, 40,98. Un distacco del 18,04% sull'antagonista. E sulla sinistra affluenza le urne del 50,27% in netto calo rispetto al primo turno. Vediamo anche le altre notizie. Se le amo in alto. Il Molise riparte. Consigli regionali di centro-destra dice peccato che la percezione reale sia diversa. E ancora è calato il sipario sulla festa di San Nicandro 2016 di Venafro con la solenne e partecipatissima processione conclusiva ma senza la Santa Manna in Basilica. A Conca Casale il sindaco Bucci strada provinciale di collegamento con Venafro pericolosa, senza manutenzione da mesi. La provincia non ha più fondi per l'ordinaria amministrazione. Vedete che scorrendo la home di Futuro Molise e le altre notizie riguardano anche Termoli. Si parla del tunnel, c'è l'intervento di Marinucci presentata in un'interrogazione parlamentare all'Onorevole Franto Ianni. Dai quotidiani regionali ai nazionali. Qui l'apertura è dedicata al ballottaggio a Milano e Roma. A Roma la Raggi è il nuovo sindaco, comunque vediamo il titolo del Corriere della Sera. Trionfo 5 Stelle, Milano a Sala. Raggi stravince, primo sindaco donna a Roma. Sorpresa a Torino, a Pendino supera nettamente Fassino nel capoluogo Lombardo. Battuto Parisi conferma per De Magistris a Napoli e per Merola a Bologna. Vedete anche qui i risultati. A Roma la Raggi 67,2%, Milano vince Sala con 51,7%, a Torino l'Appendino 54,6%. E a centropagina Renzi non mi dimetterò ora via la vecchia guardia. Il Premier non è un risultato contro di me. Chiudiamo il Corriere della Sera per dare uno sguardo alla prima pagina nell'apertura di Repubblica. Trionfo 5 Stelle a Roma e Torino. Milano a Sala, ma per il PD è crisi. Raggi e a Pendino il giorno delle sindache. Bologna conferma Merola, Napoli per De Magistris. Qui vedete la gioia di Virginia Raggi nella foto a Roma dopo la vittoria. Intanto Renzi la vera sfida resta il referendum di ottobre. I democratici una sconfitta senza attenuanti. C'è il riepilogo anche dei ballottaggi nelle altre grandi città. Abbiamo visto Roma, Torino e Milano. Napoli, De Magistris. Bologna, Virginio. Merola, la spunda sulla Borgonzoni con il 54,6%. Dalla Repubblica adesso vediamo anche gli altri quotidiani. In particolare siamo sul Fatto Quotidiano. Movimento 5 Stelle, la coppia di donne sbanca. Renzi bastonato, il suo PD frana. Affluenza picco intanto a Milano. Sala supera Parisi. Raggi a 67%, primo sindaco rosa a Roma. Torino a Pendino batte Fassino. Altre notizie. Anche qui c'è il riepilogo dei ballottaggi. 19 ballottaggi su 20 e grillini. Venerdì Matteo va alla resa dei conti. Chiaramente si parla di Renzi. Campidoglio, siamo sulla spalla. La Capitale finisce sui giornali del mondo. Festa in città con Beppe. E poi ci sono anche i ritratti. Nuovi volti. Virginia e Chiara. Lo slalom delle gemelle. E la svolta moderata. Chiudiamo il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere le notizie su Libero. Brillano le due stelle di Grillo. Il Quotidiano di Vittorio Feltri parla di risultato storico. La Raggi trionfa, il primo sindaco donna a Roma. A Torino l'Appendino mette sotto Fassino. A Milano Parisi si batte in duello con Sala fino all'ultima scheda. Ma rischia di soccombere. I partiti tradizionali in difficoltà. A Renzi ballano i cerchioni. Il centrodestra a Naspa. C'è anche l'editoriale di Vittorio Feltri. Da Libero vediamo adesso i quotidiani della Capitale. Il Tempo titola così Roma in bambola. C'è un fotomontaggio della Raggi che stravince e disintegra il PD. È il primo sindaco donna della storia capitolina. Una città distrutta in mano a chi non ha mai governato. Scrive il Tempo che poi approfondisce qui. Testa a testa a Milano. Alla fine Sala batte Parisi per una manciata di voti. Sconfitto Fassino. L'onda lunga dei grillini invade anche Torino. La Mole alla Appendino. Dal Tempo all'altro quotidiano della Capitale. il messaggero Raggi sindaco a Movimento 5 Stelle anche Torino. A Roma trionfa la candidata grillina che doppia i voti di Giacchetti. Appendino rimonta e batte Fassino. Il centrosinistra conserva Milano con Sala. Napoli successo di De Magistris e Bologna conferma Merola. A centropagina Renzi sconfitta non disfatta. Dove ho innovato, ha detto, il PD vince. L'elettore renziano del 2014 avrebbe scelto Appendino. Ancora un approfondimento. Il terremoto nel partito. Il leader sotto accusa. Cresce il timore per l'esito del referendum. Dal messaggero adesso al mattino. Ricordiamo si è votato anche a Napoli. Chiaramente apre con questa notizia. De Magistris, Filebis, sfondano i grillini. Il sindaco si conferma con il 67%. Torino e 5 Stelle. Sala avanti a Milano. La seconda volta di Luigi. Dialoghiamo con tutti. È stato detto il primo cittadino guarda già al Movimento Nazionale. In città record di astenzioni. Dunque anche Napoli conferma il trend. Nazionale. Adesso dal mattino al sole 24 ore. Apertura sulla politica. Movimento 5 Stelle. Trionfa Roma e Torino. Sala vince a Milano. I risultati del balottaggio per l'elezione dei sindaci in 126 comuni. L'affluenza si ferma al 50%. 10 punti in meno del primo turno. E adesso uno sguardo anche al secolo. d'Italia che annuncia per Renzi un autunno caldo. In basso le altre notizie. Si vota il PD è sotto stress. Renzi gli fa perdere voti. Il punto di domanda nell'articolo firmato da Carmelo Briguglio. E adesso il mondo dello sport. Ieri diversi appuntamenti. Vediamo la gazzetta come titola. Italia da urlo. Conte in finale. Esulta come me. A parlare Tardelli che rivede la Nazionale dell'82. Tutti credono nel commissario tecnico al Mondiale. vincono le favorite. All'europeo è diverso. Inter 50 milioni su Berardi. I cinesi sfidano la Juve. 25 milioni a squinzi. Altrettanti lordi al giocatore per 5 anni. Una manovra legata alla trattativa Candreva. Ci eravamo ieri diversi appuntamenti sportivi. Tra questi la Formula 1. Troppo Rosberg per la Ferrari. Formula 1. C'è il trionfo Mercedes nel Gran Premio d'Europa a Baku. Vettel finisce secondo. Raikkonen quarto. Marchionne che era presente ieri al Gran Premio. Non è ancora finita. Bene. Con la gazzetta come sempre concludiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo alle 14 il telegiornale con tutte le ultime notizie. Arrivederci.